Arrestato dalla Guardia di Finanza di Pescara un imprenditore del settore alimentare nello specifico marmellata per bancarotta fraudolenta. L'operazione è scattata all'alba di stamane sulla base delle indagini coordinate dalla Procura di Pescara. I finanzieri hanno arrestato l'amministratore di società operative nel settore alimentare per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati ammonta circa 6 milioni di euro. L'uomo, titolare di brand molto noto in Italia e non solo, avrebbe messo in piedi un gigantesco affare costruito su società indebitate, contratti fittizi e cessioni inesistenti. L'imprenditore avrebbe ceduto con contratti falsi alcuni beni aziendali vendendoli a società che in realtà sono riconducibili a lui stesso, anche il fratello dell'uomo, è scritto nel registro degli indagati. Secondo quanto si è appreso, le società sarebbero state sommerse da un vorticoso giro di documenti falsi, Vista l'accusa di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, sono scattati sigilli ad un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Le operazioni, disposte dall'autorità giudiziaria locale, sono iniziate alle prime luci dell'alba. I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito le misure cautelari, personali e reali, lungo la direttrice Abruzzo, Molise e Campania, con l'ausilio di militari e mezzi aerei del reparto operativo aeronavale del capoluogo adriatico. Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su coordinamento della competente Procura della Repubblica, sono stati analizzati centinaia di negozi giuridici, rapporti finanziari di varia natura ed un'enorme mole di documentazione amministrativo-contabile acquisita a seguito di numerosi controlli incrociati. Secondo gli investigatori, l'amministratore di fatto avrebbe svuotato le società indebitate ed in liquidazione giudiziale dei beni aziendali, simulandone la cessione con falsi contratti ad una catena di partner produttivi con sede nel Chietino, nel Molisano e nella circoscrizione partenopea riconducibili allo stesso amministratore. I trasferimenti reiterati sarebbero avvenuti in assenza di corrispettivi, consentendo tra l'altro anche la prosecuzione dell'attività produttiva in capo ad una società non gravata da pendenze tributarie e amministrata formalmente dal fratello dell'imprenditore, finito anche lui tra gli indagati.